Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, la cronaca in primo piano in questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo partendo da Palermo. Furto all'ospedale Cervello di Palermo. I gnoti infatti hanno preso nuovamente di mira i distributori di bibite e merendine presenti nel reparto di malattie infettive del nosocomio palermitano, scassinando le casse e portando via i contanti di almeno quattro macchinette. Si tratta, come detto, dell'ennesimo furto perpetrato in un ospedale del capoluogo siciliano. Sulla vicenda stanno ora indagando gli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno già acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Lasciamo Palermo e ci spostiamo a Siracusa e continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Siracusa Belvedere hanno arrestato una 26enne poiché responsabile di evasione. I militari, nel corso dei controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno riscontrato che la donna, in regime di detenzione domiciliare per rapina, si era allontanata da casa senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. L'arrestata, rintracciata nel corso della nottata fuori dal comune di residenza, in compagnia tra l'altro di altre persone, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sottoposta nuovamente alla misura presso il proprio domicilio. Ed ora invece nella Trapanese, dove due uomini sono stati tratti in arresto dai carabinieri e condotti in carcere. Vediamo perché. I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione alla carcerazione emesso dal tribunale di Marsala, un pregiudicato di 50 anni. L'uomo deve scontare una pena di oltre 5 anni di carcere per alcuni furti commessi nel comune di Paceco nel 2013. A Marsala, invece, i carabinieri della stazione di San Filippo hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni, attualmente ammesso alla misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, in quanto deve scontare sei anni e mezzo di carcere per pene concorrenti, così come disposto dal tribunale di sorveglianza di Trapani. Entrambi, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Parliamo adesso di un maxifurto di armi avvenuto invece a Naro, siamo nell'Agrigentino. Alcuni ladri si sono intrufolati all'interno di un'abitazione di campagna di proprietà di un 67enne di Camastra, sradicando l'armadietto blindato con all'interno due fucili calibro 12, una doppietta calibro 16, un fucile calibro 20 e una pistola calibro 28, tutte armi legalmente detenute. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Ed ora nel Messinese per parlare dei controlli effettuati dai carabinieri nel territorio di Milazzo e sono scattate denunce e sanzioni di servizio. Nei giorni scorsi, in concomitanza con il maggior rafflusso di cittadini negli esercizi commerciali in ragione delle festività natalizie, i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo della cittadina Mamertina e del territorio di competenza, proseguito fino a tardanotte e interessando anche i comuni di Torregrotta e Rometta, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità diffusa, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni di legge da parte delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Sono stati pertanto controllati più di 100 veicoli e oltre 200 persone con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada. Inoltre sei persone sono state segnalate alla prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish detenute per uso personale che sono state sequestrate. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale sono state denunciate tre persone per guida sotto l'influenza di alcol, due per rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti e una per porto di armi o d'oggetti atti a offendere poiché trovata in possesso di coltelli senza giustificato motivo. Infine, nell'ambito dei controlli domiciliari ai detentori di armi, una persona è stata deferita per aver trascurato di adoperare le necessarie cautele nella custodia. Ed ora invece a Caltanissetta per parlare di quanto avvenuto a un'anziana signora che era sola da circa sette giorni, ormai confusa e senza aver toccato né cibo né acqua. Così i soccorritori hanno trovato una signora di 80 anni che, come detto, era sola a casa a Caltanissetta con difficoltà a camminare ed è nutrita. L'hanno soccorsa poliziotti, vigili del fuoco e personale del 118. A contattare il 112 sono stati vicini, insospettiti dal fatto che non avevano più notizie dell'anziana vicina di casa. Da circa una settimana la donna abita in via Paladini, quartiere residenziale della città di Caltanissetta. Il medico che l'ha visitata ha trovato la donna in un forte stato di denutrizione. La paziente è stata quindi condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove le sono state prestate le cure e nel frattempo sono stati avvisati i parenti. Ci spostiamo virtualmente a Mister Bianco dove i carabinieri hanno intensificato i controlli nel territorio in occasione delle festività natalizie e non sono mancate denunce e sanzioni. Vediamo il servizio. Nell'ambito dell'operazione Buon Natale Sicuro, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l'intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire sia nel centro cittadino che in periferia la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e del XII Regimento Sicilia hanno arrestato nel comune di Mister Bianco un 51enne del posto per evasione e denunciato in stato di libertà un 31enne catanese per violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro. In particolare i militari dell'arma, oltre ad aver svolto numerosi controlli su strada, all'esito dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro, hanno effettuato diversi controlli sia presso le abitazioni dei soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi sia nei confronti delle attività commerciali di quel territorio. Nel primo caso i carabinieri, avuto accesso all'appartamento del 51enne, sottoposto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ne hanno accertato l'assenza in casa senza alcuna autorizzazione. Immediate quindi le ricerche che hanno permesso di rintracciare l'individuo non distante dal proprio domicilio, mentre si stava godendo una passeggiata all'aria aperta. Al riguardo l'autorità giudiziaria, convalidato l'arresto, ha disposto che l'uomo venisse nuovamente sottoposto ai domiciliari. Per quanto concerne invece le attività ispettive svolte con l'ausilio dei colleghi del NIL, i militari dell'arma hanno deferito il titolare di una carrozzeria attualmente detenuto in carcere per violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In qualità di datore di lavoro, lo stesso ha omesso di sottoporre a visita medica un lavoratore con conseguente applicazione di un'ammenda di 4.900 euro. È stata poi acclarata anche la presenza inditta di un lavoratore in nero, circostanza che ha fatto scattare anche la maxisanzione per un importo di 2.500 euro. Infine è stata anche sospesa l'attività in questione, poiché è stato impiegato il 10% dei lavoratori presenti senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. A Catania invece i carabinieri hanno tratto in arresto tre giovani pusher nel quartiere Librino. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato in flagranza tre giovani catanesi rispettivamente di 19, 23 e 25 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Al riguardo i militari dell'arma, all'esito di un'attività info-investigativa volta al contrasto dello smercio di droga, hanno rivolto la loro attenzione verso una palazzina di Viale Nitta nel quartiere Librino, già in passato teatro di similari operazioni antidroga, riuscendo ad accertare il modus operandi degli spacciatori. Secondo una prassi ben consolidata, infatti, questi ultimi, anziché rimanere in strada e quindi esporsi ai possibili raid delle forze dell'ordine, si erano sistemati al primo piano di uno stabile in un alloggio disabitato dove materialmente avveniva la compravendita dello stupefacente. I militari, pertanto, confondendosi tra gli acquirenti, sono riusciti ad accedere all'interno di quella casa, cogliendo di sorpresa i tre soggetti intenti a gestire la preparazione delle dosi e la vendita della droga, attraverso una netta suddivisione degli incarichi. In particolare, il 19enne si occupava di aprire la porta ai clienti, non prima però di aver controllato, attraverso un monitor collegato a una microcamera occultata in un interruttore della luce del pianerottolo, che non vi fossero sgradite sorprese da parte delle forze dell'ordine. A seguire, il 23enne aveva il compito di pesare e confezionare lo stupefacente, mentre il più anziano, il 25enne, gestiva la cassa. All'esito della perquisizione sono stati rinvenuti sul tavolo della cucina 22 grammi di cocaina, 18 di crack e 14 di marijuana, nonché un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle singole dosi e un foglio di block notice con annotate le somme di denaro frutto delle cessioni di droga. I tre sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per due di essi la sottoposizione ai domiciliari. Restiamo nel Catanese per parlare di una tentata rapina in una ditta di trasporti. È stato tempestivo l'intervento degli agenti della Polizia di Stato. Sono tre i malviventi, tratti in arresto. Tutti i dettagli nel servizio. Nella nottata del 22 dicembre scorso la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone colte in concorso tra loro nella flagranza dei reati di tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate al contrasto dei reati di natura predatoria intensificate su disposizione del questore di Catania nel periodo delle festività natalizie, personale della sezione reati contro il patrimonio e la squadra antirapina della locale squadra mobile ha intercettato nel territorio di Belpasso un veicolo provento di furto con a bordo tre soggetti vestiti con abiti scuri e il volto coperto da cappelli di lana e scaldacollo. Il conseguente servizio di pedinamento dell'autovettura sospetta ha consentito di appurare che i tre uomini si stavano recando presso un'azienda di logistica e trasporti per compiere una rapina. Infatti raggiunto il cancello d'ingresso i tre hanno azionato il clacson con il chiaro intento di farsi aprire per accedere all'interno al fine di realizzare il progetto delittuoso. Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di rilevare che il conducente del veicolo era armato di una pistola semi-automatica calibro 6,35 con 4 cartucce. Il passeggero anteriore invece di un revolver calibro 38 con 6 cartucce e il passeggero posteriore di un taglierino. Peraltro all'interno della macchina i tre fermati detenevano fascette in plastica e scotch, materiale con il quale avrebbero dovuto immobilizzare i dipendenti della ditta durante la materiale esecuzione della condotta criminale. Il successivo atto di ricerca presso le abitazioni dei tre autori del reato ha portato al rinvenimento e al sequestro nel domicilio di uno dei malviventi ubicato ad Acicatena di un fucile automatico da caccia con relativo munizionamento, risultato provento di furto. In ragione della condotta criminosa posta in essere e della detenzione illegale di armi comuni da sparo, i tre soggetti sono stati tratti in arresto e dopo le formalità di rito, d'intesa con il PM di turno, tradotti presso il carcere di Catania a Piazza Lanza per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, che lo scorso 26 dicembre ha poi convalidato l'arresto. A Ragusa la polizia ha invece effettuato un arresto per una rapina ai danni di un'anziana in servizio. Dal mese di novembre di quest'anno il personale della squadra mobile di Ragusa ha condotto serrate indagini di polizia giudiziaria volte all'identificazione dell'autore di scippi, rapine al passo e furti aggravati commessi nella zona del centro storico di Ragusa. Atti criminali culminati in pieno giorno la mattina dello scorso 17 dicembre con la rapina aggravata in danno di una 79enne di Ragusa, la quale, successivamente trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II con un'ambulanza del 118, ha riportato delle lesioni. Le indagini svolte dalla squadra mobile di Ragusa hanno portato lo scorso 23 dicembre all'emissione di un decreto di fermo a carico di un cittadino gambiano titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari e senza fissa dimora. L'attività di indagine, supportata da servizi di appostamento e pedinamento, dalla disamina di apparati di videosorveglianza installati nella zona di interesse, ha consentito di immortalare le effigie del soggetto autore della rapina aggravata. L'extracomunitario, che indossava un giubbotto double face al fine di eludere le investigazioni, subito dopo la commissione dell'evento delittuoso, ha provveduto a cambiare il lato esterno del capo di abbigliamento con quello interno di diverso colore, particolare però che non è sfuggito agli inquirenti. A tradire il gambiano è stato, oltre all'abbigliamento indossato durante la perpetrazione dell'evento delittuoso, anche il fatto che dopo qualche ora dalla rapina si è recato in un esercizio comprooro del centro di Ragusa per porre in vendita la collana dell'anziana. Nella circostanza si è registrato esibendo il proprio documento di identità. Gli incontrovertibili elementi probatori acquisiti, con l'ulteriore visione delle immagini installate al comprooro e la comparazione del volto acquisito con quelle delle immagini degli extracomunitari fotosegnalati, hanno permesso di identificare senza ombra di dubbio l'autore dei delitti. Il personale in servizio è riuscito a recuperare il monile sottratto alla vittima restituendolo alla stessa. Il giudice per le indagini preliminari, a conferma dell'imponente quadro indiziario raccolto dagli investigatori e dalla locale procura della Repubblica, ha poi convalidato il fermo disponendo la misura cautelare in carcere nei confronti del cittadino gambiano. Era l'ultima notizia, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!